Siamo al Festival Architettura in città dove ci si può nutrire anche di paesaggio. Alessandra Aires parla per IAP con una mostra che riguarda tanti aspetti del paesaggio anche tra Torino e la Svizzera. Questa è una mostra all'interno di questo magnifico scenario delle OGR sull'architettura del paesaggio dei paesaggisti svizzeri. Non solo in Svizzera ma anche nel resto del mondo perché appunto si sono come lo studio Bergico, Merzog e Demuron hanno fatto dei lavori molto interessanti da Londra all'Australia. Quindi si possono vedere degli esempi molto belli. E poi naturalmente per nutrirsi di paesaggio ci nutriamo anche del paesaggio più vicino a noi. E quindi quello che invece a Torino e in Piemonte si fa come trasformazioni urbanistiche, come paesaggio, trasformazioni del paesaggio e tutti gli interventi che hanno trasformato la Torino industriale che qui si vede molto bene perché siamo in uno dei capannoni industriali più belli senza altro di Torino che per fortuna si sono conservati. In altri casi non sono stati conservati magari perché meno di pregio, sono tutti trasformati in giardini e in paesaggio.